Il caldo record di queste ore ha spinto tantissime persone a riversarsi in spiaggia, in campania, stabilimenti e arenili liberi sono stati presi d'assalto. In una domenica da tutto esaurito in riva al mare sorride il comparto turistico, ma non mancano le polemiche. A Napoli comitati ed associazioni hanno manifestato il largo sermoneta per chiedere un mare pubblico pulito e gratuito nel mirino dei napoletani insieme al caro Prezzi. E' finita anche la delibera dell'Aggiunta Manfredi, che prevede il numero chiuso negli arenili di Posillipo, una scelta che, secondo l'amministrazione, consentirà di preservare la sicurezza ed evitare gli assembramenti. Ma i bagnanti non ci stanno e chiedono più concessioni per il mare a costo zero, un pensiero condiviso anche nella vicina Salerno, dove i cittadini al microfono di 8 Channel chiedono che le spiagge siano accessibili a tutti. Non soltanto i ricchi devono avere questi benefici di godersi l'estate, anche i poveri hanno diritto di godersi l'estate. Con questa crisi spendere 30-40 euro per un ombrellone penso che non sia il caso. A dire la verità ce l'ho un po' con i pietri sul mare. Il fatto sta che la gente per l'accesso libero alla spiaggia, libera, diciamo, deve pagare lo scontrino, come se fosse una vettura al parcheggio. Male. E con questo ho detto tutto. Malissimo. Allora, io sono andata sempre alle spiagge libere. Bisogna girare. Poi non lo so, di solito sempre alle spiagge libere. In Italia ormai è un abuso continuo. Si dà concessione all'infinito a tutti quanti, senza regolamentare almeno i prezzi.